E' stato un po' per l'Italia come giornalista e sono stato per esempio domenica a Milano dove lei ha fatto un comizio e ho visto che lei passando tra la folla dei suoi simpatizzanti che sono numerosi e che la circondavano, lei fa uno strano gesto con la mano, non so se se è la sinistra o la destra, la alza, cioè stringe le mani, poi fa questo gesto, glielo visto fare in altri comizi, mi sono consultato con dei miei colleghi per vedere se questo gesto è ripetuto, ora le chiedo, ripeto senza malizia, è un saluto romano, un mezzo saluto romano, un gesto con la mano, si usano anche negli Stati Uniti, un semplice gesto con la mano? Io stringo molte mani, ogni tanto mi salvo facendo così e debbo ritenere fuori da ogni apologia, che se ci mettessimo d'accordo democraticamente per limitare al minimo specie durante, dopo, prima dei comizi la stretta di mano e per salutarci così, così, in qualunque modo insomma, sarebbe igienicamente una bella cosa per i comizianti almeno e per coloro che come me fanno tanti i comizi.